Fissato in agenda per martedì 27 luglio l'incontro sul futuro industriale della città. In programma anche un chiarimento sull'Istituto per l'Intelligenza Artificiale. Adesso c'è la data. Il premier Mario Draghi ha convocato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e la sindaca Chiara Appendino a Palazzo Chigi martedì 27 luglio per parlare del caso Torino. Una lettera scritta il giorno dopo la decisione di Stellantis di aprire la terza gigafactory del gruppo a Termoli e non a Mirafiori come tutte le istituzioni torinesi avevano chiesto in un'altra lettera al premier. Scelta, secondo i rumors condivisa dal governo. L'incontro. Questo era stato chiesto a Draghi dalle istituzioni e dai rappresentanti di sindacati e delle associazioni di categoria per capire dall'esecutivo quali sono le politiche di sviluppo che il governo ha in mente per Torino, per presentare caratteristiche, potenzialità e problemi di questo territorio che è stato dichiarato area di crisi complessa proprio per le tante chiusure aziendali che si sono verificate in questi anni, con migliaia di posti di lavoro andati in fumo. Ma c'è un'altra partita che verrà affrontata nell'incontro di martedì pomeriggio, quello dell'intelligenza artificiale. Il governo Conte aveva individuato Torino come sede unica dell'istituto. L'esecutivo Draghi invece ha ridimensionato le aspettative. Ho ricevuto la chiamata del capo di gabinetto del premier, Antonio Funicello comunica il presidente Cirio, che mi ha confermato per martedì prossimo la disponibilità del presidente Draghi. Questo primo incontro sarà con la regione e il comune di Torino in rappresentanza di tutte le voci del territorio che hanno sottoscritto la lettera inviata al premier. Venerdì pomeriggio ci confronteremo nuovamente sulle principali istanze che come Piemonte desideriamo portare al governo. Grazie